Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Siamo arrivati a giovedì. Oggi leggeremo dal versetto 21 al versetto 27, sempre nel Vangelo di Marco al capitolo 13. E allora se qualcuno vi dice il Messia è qui, oppure no, è quello là, voi non fidatevi perché si presenteranno molti falsi Cristi e falsi profeti che compiranno miracoli meravigliosi per ingannare, se fosse possibile, perfino i figli di Dio. State attenti, vi ho avvertito. Dopo la fine delle tribolazioni il sole si oscurerà e la luna non risplenderà più, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora tutta l'umanità vedrà me, il Messia, venire nelle nuvole con grande potenza e gloria. E Dio manderò i miei angeli in tutte le direzioni a radunare i miei prescelti dai più lontani confini della terra e del cielo. Sappiamo che le cose peggioreranno man mano che si avvicina la seconda venuta di Gesù. I falsi maestri hanno afflitto la Chiesa fin dalla sua nascita e decine di loro, dai malati mentali agli opportunisti, hanno affermato di essere Gesù. Alcuni hanno innegato persino milioni di seguaci, mentre altri hanno manipolato i loro discepoli, inducendoli a suicidarsi nella speranza della salvezza. E ho affrontato questo problema in un altro dei miei video su YouTube, se vai sul canale Peppocast, intitolato Falsi Cristi. Quando il sole e la luna si oscurano e le acque si tingono di sangue, il mondo è coperto da piaghe, carestie e guerre, uomini senza scrupoli approfitteranno della sofferenza. Attualmente lo Spirito Santo sta impedendo alle forze spirituali maligne di svilupparsi nella manifestazione ultima dell'Anticristo. Praticamente sta facendo da freno. Ma alla fine dei tempi la sua mano restrittiva, diciamo, verrà tolta, dando a Satana l'opportunità di governare il mondo, ma permettendo anche a falsi ingannatori umani la libertà di agire come desiderano. E questi falsi maestri saranno così convincenti che i credenti sarebbero ingannati se non fosse per la verità che Gesù mette nei loro cuori. E pertanto è fondamentale che siamo veramente radicati nella parola. Giovanni 10, 5 dice, uno sconosciuto non lo seguiranno, ma fuggiranno da lui perché non conoscono la voce degli stranieri. Quindi i veri credenti non seguiranno una persona che finge di essere Gesù, ma coloro che non sono radicati in Gesù crederanno facilmente che qualcun altro con dei poteri magici li salverà. Il profeta Zaccaria avverte che durante la tribolazione due terzi di tutti gli ebrei saranno uccisi. L'Apocalisse 6 fino al 16 descrive gli orrori che il mondo sperimenterà. Alla fine della tribolazione il mondo sarà in uno stato terribile. Tutto il mondo marino sarà distrutto, ahimè, miliardi di persone saranno morte a causa di malattie, di carestie, di pestilenze e di guerre. E molta anche della vegetazione sarà scomparsa. La terra stessa sarà danneggiata da terremoti e anche da una grande meteore. E dopo la tribolazione, quando sole, luna e stelle si oscureranno, Gesù apparirà nelle nuvole con grande potenza e gloria. Per cui l'Apocalisse descrive Gesù che cavalca un cavallo bianco con gli occhi come fuoco e la veste in tinta di sangue. Il suo esercito lo seguirà su dei cavalli bianchi. Una spada filata uscirà dalla sua bocca e distruggerà la nazione. Egli porterà l'ira e la collera di Dio. E questo, ragazzi, è un po' diverso da un capo di culto che si professa come cristiano, raccoglie del denaro e ha molte partner sessuali. Gesù chiamerà a sé il suo popolo che sopravviverà alla tribolazione. Queste sono le pecore che sono state salvate, mentre invece le capre che non seguono Cristo non sopravviveranno. I seguaci di Cristo, sia ebrei che gentili, entreranno in questo regno millenario come uomini naturali. Pertanto potranno sposarsi e riprodursi esattamente come gli uomini naturali fanno oggi. E i loro figli potranno o meno diventare credenti, proprio come accade oggi. E questo gruppo di persone è responsabile della riproduzione del regno. E sono la fonte degli eserciti increduli di uomini che si solleveranno contro Cristo alla fine del millennio, quando Satana sarà rilasciato un'ultima volta. I credenti invece che sono morti o sono stati rapiti in cielo, saranno anch'essi presenti nel regno millenario, però in corpi glorificati come quello di Cristo. Non peccheranno, non si sposeranno e non avranno figli. riflessione. Considerate tale profezie come fantascienza o vi entusiasmate per ciò che sta per accadere? Signore, non vediamo l'ora del tuo ritorno. Sarà un'occasione fantastica, specialmente per coloro che ti conoscono, ma sarà una situazione tragica per coloro che ancora non si sono affidati a te. Io prego per loro che i loro cuori siano trasformati dalla potenza della tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Allora, buona giornata a tutti e, io volendo, risentirci domani. Ciao. Ciao.